Ciao Antonio. Ciao Walter. Qui le parole cambiano il significato, ci sfuggono di mano i significati delle parole. Ci sfuggono di mano ma il fatto è che purtroppo sono sempre le stesse, solo che cambiano, cambiano di abito. Esatto. Ti ricordi una volta quando c'era il tizio che girava con il bidone, con le ruote, la scopa, la saggina, lo chiamavamo spazzino. Lo spazzino. Suonava male e allora gli abbiamo cambiato. È diventato niente meno che l'operatore ecologico. L'operatore ecologico. E ti ricordi il vecchio postino? Lo girava con la bicicletta, con la borsa a tracolta, eccetera. E adesso che cosa è diventato? È diventato a un certo punto è diventato portarettere. Fantastico, portarettere. E poi è diventato un operatore, è diventato un operatore postale. Operatore postale. Ma tu pensa anche l'imbarazzo, no? Quelle persone con disabilità. Prima c'erano gli invalidi, poi... No, prima c'erano, aspetta, prima c'erano i mutilati. I mutilati, sì. Che avevano avuto incidenti o per guerra oppure per condizioni civili. Poi gli invalidi. Poi sono diventati invalidi, che quindi vuole dire che... Gli handicappati. C'è stato un momento che tutti eravamo handicappati. Perché si è diventati esterofili, no? E quindi abbiamo fatto diventare da handicap handicappati. Poi la disabilità e quindi... E adesso persone con... Guarda se non dici persone con disabilità. No, ancora peggio. Persone con... Questo che c'è da dire, persone con altre abilità. Ah, sì, sì. Diversamente abili. Diversamente abili. Capito? E arriviamo al paradosso. Sì. Walter, sei diversamente simpatico. Sì, oppure diversamente giovane. Ecco. Dimmi pure che sono diversamente insulso a volte, perché succede che tiro fuori delle cose. Poi c'erano... Gli stessi, va bene, nell'ambito delle disabilità c'erano i cecchi. I cecchi che non erano quelli della cecosovacchia, eh? E sono diventati... Sono diventati non vedenti i cecchi. Non vedenti. E videolesi. Disabili visivi e videolesi. Videolesi. Ecco, ma questo vale anche per i sordi. Così per i sordi. Allora, prima erano... Prima che cos'erano? Erano sordi. Sordi. Poi sono diventati audiolesi, diciamo. Non udenti. Non udenti. In mezzo hanno avuto non udenti. Sì. Scusa, allora se prendi uno come me, che sono anziano. Allora, gli anziani, anche qui. Se sono passato da vecchio. Una volta eravamo vecchi. Una volta, quando c'erano i vecchi, adesso noi allora eravamo giovani, adesso siamo vecchi. Adesso siamo diversamente, diversamente giovani. Poi siamo diventati anziani, diversamente giovani. Se i cecchi erano videolesi, gli altri erano audiolesi, cosa possiamo essere? Tirolesi. Ah, io pensavo dicessi vecchiolesi. Tirolesi. Tirolesi, va bene. Va bene. Va bene, vi salutiamo. Vi salutiamo, avete capito che la stupidità... Se volete trovare altre parole che cambiano, fatecele sapere nei commenti. Iscrivetevi. Walter continua a essere diversamente simpatico. Io continuo a essere diversamente insulso, che butto delle battute a buon mercato. Perdonate, ma credo che sia realtà... Sì, ormai siamo tirolesi, quindi boh. Sì, ho vecchio reso. Un vecchio reso. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.